carissimi amici dinosauromania sono ritornato vi ho fatto attendere veramente tantissimo ma deccomi qui con questo fantastico tiranosaurus rex nella versione camp cretecius ecco qui vedete il logo stiamo parlando di un t-rex spettacolare vi faccio vedere subito il retro della scatola ecco qui alcune informazioni in merito e sempre grandi grafiche per questi dinosauri della mattel ecco qui appunto le informazioni sul retro della scatola ed eccolo eccolo ragazzi fantastico guardate che apertura guardate che mascelle che denti e che cattiveria allora sul dorso abbiamo il tastino che ci permette appunto di vedere il graffio vedete successivamente ad un combattimento qui ci sono delle lacerazioni che vediamo sul suo corpo tramite il tastino riposto sul dorso e poi ancora quindi questa è la versione extreme damage e poi ancora qui il movimento delle zampine delle arti superiori ed apertura e chiusura della bocca di questo fantastico tiranosaur guardate i dettagli le colorazioni veramente veramente unico trovato in hypercop in offerta quindi vi consiglio anche voi di fare un salto qui la coda che poi verrà successivamente montata e vi faccio vedere nuovamente come tramite appunto il tasto riposto sul dorso di questo fantastico t-rex potrete far apparire e scomparire i graffi sulla parte laterale del suo corpo è veramente veramente bellissimo come sempre mattel vedete non si smentisce mai soprattutto nella scelta dei colori e dei dettagli eccolo qui in tutta la sua bellezza i cartonati sono sempre super fantastici vi faccio vedere ancora la sua bocca guardate ragazzi che cattiveria guardatelo è veramente veramente fantastico ovviamente è un pezzo che non può mancare nella vostra collezione io l'ho preso ad occhi chiusi eccolo qui extreme damage cam cretaceous stiamo parlando quindi della serie che avete visto tutti su netflix e allora ragazzi questo è il fantastico tirannosaurus che vi sto presentando ricordatevi di mettere tanti pollici in su di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video ce ne saranno ancora tanti altri io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao da dinosauro mania ciao